Io credo che le quattro sconfitte pesano come un macigno, ma anche se si va a vedere che nell'arco di un campionato ci possa essere un periodo negativo, questo periodo negativo lo dobbiamo far terminare sicuramente. Oggi secondo me l'abbiamo fatto da Cagliari cercando di mettere pressione all'avversario, soffrendo un po' la loro fisicità, ma contro Ibra si sapeva che anche per la nostra struttura ogni calcio pesato poteva essere pericoloso, per cui abbiamo una struttura di squadra diversa da loro. Però il primo tempo l'abbiamo fatto cercando, anzi secondo me, giocando a calcio, tenendo il pallino noi, subendo poco, forse avendo l'occasione più grossa a noi. Poi purtroppo, come sta accadendo ultimamente, concediamo con troppa facilità. Noi tutti dobbiamo essere bravi a far sì che questo finisca, perché poi quando le partite si mettono in salita, soprattutto con queste squadre qua, diventa difficile. Perché il Milan ha verticalizzato tutta la gara su Ibraimovic, venendo sulle seconde palle, andando sulle pizzate. Io credo che non abbiamo corso grandi pericoli, abbiamo corso su due calci pesati da metà campo, dove hanno trovato il gol con una facilità estrema. Questo non deve accadere, perché ripeto, questo fa sì che le partite si mettano in salita, e quando si mettono in salita diventa tutto più difficile. Se vogliamo fare in modo che questo periodo negativo riprendere a correre da sesti in classifica a fine dell'andata finisca, dobbiamo far tesoro di questa cosa e cercare di migliorarla in fretta. Io dovrò impegnarmi molto su questo per invertire questo trend. Grazie! Grazie!